Il Monopoli piazza il colpo in attacco. La società bianco-verde ha annunciato l'accordo con Alessandro Rossi fino al 30 giugno 2022 con opzione contro opzione più opzione per il secondo anno. L'attaccante romano, classe 1997, cresciuto nel vivario bianco-celeste, ha siglato 40 reti complessivamente nel campionato primavera, esordendo in Serie A nella stagione 2016-2017 nel match vinto 1-0 contro il Crotone. Nella stagione successiva si trasferisce alla Salendana in Serie B collezionando 27 presenze e 3 reti. Potrebbe essere Tommaso Biasci il primo rinforzo per Silvio Baldini. Il tecnico del Paremmo ha già allenato l'attaccante Pisano sotto contratto col Padoa nel corso della sua esperienza blu-renale sulla panchina della Carrerese. Contatti avviati per una trattativa che sembra ad oggi caldissima. Assodato e dato quasi per certo che a giorni l'attaccante Saviriano Infantino diventerà un nuovo calcedore del Potenza, ecco che il club lucano si è portato avanti con il lavoro ed infatti è già tutto pronto per l'applodo in Basilicata nelle prossime ore di un altro nuovo acquisto. Il secondo rinforzo del Potenza arriverà a quanto varia dalla file di Sandia e sarà l'esterno genovese di origine calabrese Giuseppe Zampano. Lo scorso anno il calciatore ha giocato con la Reggiana in Serie B mentre in carriera ha vestito anche le maglie di Crotone e Venezia. Sembrava potesse lasciare la Paganese in questa sessione di mercato ma il capitano e bomber Luigi Casaldo vestirà ancora la maglia azzurro stellata. Purtroppo in ogni sessione di mercato si scrivono tantissime cose su di me ma posso garantire che non c'è e non c'è mai stato un problema per proseguire la mia stagione con la Paganese dove ho grande intesa con la società. Queste notizie apparse negli ultimi giorni non sono veritiere anzi con la società c'è grande intesa come già detto prima e l'intenzione di andare avanti fino al termine della stagione. Lo ha sottolineato lo stesso bomber ex Avelino in una nota stampa.